Alla soglia dei 50 anni, Janet Jackson si prepara a diventare mamma. Stando a quanto riportato da Entertainment Tonight, infatti la cantante statunitense sarebbe in attesa del suo primogenito con il marito Wissam Almana. La notizia non giunge come una sorpresa assoluta, poiché Janet, un mese fa, comunicava di aver interrotto il tour mondiale Unbreakable per salvaguardare le sue condizioni di salute. In un video condiviso sul suo sito ufficiale, la Jackson ha affermato «Nella mia vita ci sono stati degli improvvisi cambiamenti e così ho voluto che foste voi a sapere per primi. Io e mio marito stiamo provando ad avere un figlio». Ad aprile un rappresentante della Live Nation ha annunciato che le restanti date del tour di Janet sono state posticipate al 2017.